Anche Rocchetta Vara ricorda in questi giorni l'anniversario, il quarto anniversario dell'alluvione del 2011. È anche un po' il momento per fare il punto della situazione su quello che è stato fatto, ma su quello che rimane ancora da fare ed è ben visibile sul territorio. Certo, naturalmente non si può dimenticare un evento come questo e quindi viene ricordato intanto da ognuno dentro di sé e poi con un momento pubblico una fiaccolata per tenere viva l'attenzione sulla questione del ponte di accesso a Rocchetta che è ancora oggi la ferita più aperta dal 25 ottobre 2011. Accanto a quello abbiamo da completare i lavori di messa in sicurezza del fiume che sono stati avviati in compensazione, quindi in questo tempo è stato alleggerito di materiale sovralluvionale e adesso in compensazione verranno costruite le scogliere. E infine un pensiero come ogni anno alla lavanderia Valdivara che era proprio a Rocchetta e che dal 25 ottobre 2011 non ha ancora riaperto. Ci sono speranze di ripresa di attività che speriamo davvero si possano concretizzare e presto per i posti di lavoro che può dare quel luogo. La Valdivara, le Cinque Terre, il territorio della provincia della Spezia ricorda quattro anni dall'alluvione quello che è accaduto purtroppo in quei terribili giorni e quanto è stato fatto poi in questi anni ma anche quanto ancora resta da fare. Un momento importante anche per fare il punto. Io credo che momenti come questi siano sicuramente momenti che vanno ricordati per quello che è stato e anche per la capacità che c'è stata di poter ricostruire. Oggi qui si riparte e credo che la giornata sia veramente bella ed importante. Certo c'è ancora tanto da fare. Io ho sottolineato anche questa mattina che conviviamo con un territorio molto compromesso e con un rischio residuo contro il quale non bisogna mai abbassare la guardia. I sindaci sono in prima linea, la regione vuole essere al loro fianco per cercare ovviamente di mitigare questo rischio con cui le nostre popolazioni si trovano costantemente a dover affrontare.